Ciao ragazzi e bentornati nel mio canale. Oggi vi parlerò di un laser mostruoso, si tratta infatti del IKEA K1 Pro con modulo laser da 24 watt. Faremo un veloce unboxing, un montaggio e poi vedremo alla fine come si comporta. Quindi, se per voi va bene, sigla! E' la prima volta ragazzi che mi capita di provare una si bella macchina e quindi sono davvero curioso di vedere cosa si trova dentro la confezione. All'apertura troviamo due manuali, scritti anche in italiano, devo dire un po' succinti ma comunque molto chiari. In particolare, in quello blu di destra troviamo anche le indicazioni per la definizione di due pulsanti molto importanti, uno è l'autofocus e l'altro è l'attivazione dell'air assist, entrambi necessari per l'azzeramento ed il taglio. Proviamo quindi il modulo laser con una potenza dichiarata di 22-24 watt. Il modulo laser predisposto con uno switch per l'autofocus nonché poi la predisposizione per l'air assist. Poi abbiamo l'air assist vero e proprio con la sua mandata e nonché la sua alimentazione elettrica, il trasformatore della macchina con una corrente massima di 2 ampere. Il tubo in gel per convogliare l'aria e nonché le varie viterie. Gli occhiali, tra l'altro particolarmente affidabili, indossati di sempre. E poi passiamo alle fiancate. La sensazione è quella di una qualità percepita particolarmente elevata. Le fiancate sono al 90% già premontate e precablate. Troviamo poi uno schermo che è quello LCD che va montato frontalmente alla macchina e che si attacca quest'ultima per via magnetica. Si può notare veramente un gran bel lavoro sia dal punto di vista meccanico che dal punto di vista del cablaggio fatto veramente bene. Devo dire che i tecnici che hanno fatto veramente un bel lavoro. Passiamo adesso al montaggio e vediamo se mi darà le stesse soddisfazioni. Il montaggio è particolarmente piacevole perché le varie parti che costituiscono il telaio sono intestate al laser. Sembra un gioco di parole ma in realtà non è così. Significa cioè che praticamente il telaio resta montato da solo anche senza la viteria. L'effetto infatti del montaggio della viteria è particolarmente piacevole perché i fori si trovano già tutti frontalmente allineati. L'albero di trasmissione si infila nei rispettivi cuscinetti. Una volta infilato ed arrivato fino all'altra parte basta infilarlo all'interno dei giunti. Bisogna allineare ovviamente prima l'asse X e poi stringere quelli che sono i giunti elastici ed il gioco è fatto. Fissato anche il secondo giunto si passa al montaggio vero e proprio dell'asse X. Questo è reso possibile grazie allo smontaggio del coperchio e al fissaggio delle quattro viti nelle appoggiati sedi. L'unico punto in cui è necessario usare una pinza visto la lunghezza della vite stessa. Non di certo un'operazione difficile. Quello che vedete sono le corsie a ricircolo di sferra che consentono un'elevata scorrevolezza lungo gli assi. Si passa poi al montaggio dei microswitche i quali sono solamente un po' piccoli bisogna solo prestare un po' attenzione e poi al montaggio del laser. Di per sé molto facile perché viene montato su delle apposite guide di rondine veramente ben fatte. La parte elettrica è molto facile da montare perché si utilizzano dei connettori maschio e femmina in cui è impossibile veramente sbagliare. L'unica accortezza è di stare attenti perché le dimensioni sono un po' piccole. I cavi li ho trovati leggermente corti ma non è assolutamente un problema. Si va quindi a chiudere quello che è il coperchio dell'asse X e a terminare il cablaggio del laser sia nella parte superiore per il motore di azzernamento vero e proprio sia nella parte inferiore che è la parte in cui si genera quella croce che ne dà diciamo così le dimensioni esterne prima del taglio laser stesso. Questo è un nuovo laser con una nuova tecnologia all'interno e quindi sono veramente curioso di provarlo e di vedere quelle che sono le sue prestazioni. Collegato anche l'ultimo connettore del laser e chiuso il coperchio rimano da montare quello che è il pannello touchscreen che come vedete si applica per via magnetica nella parte frontale nonché i vari connettori di alimentazione e il tubo in gel dell'Air Assist. I primi test li ho realizzati con laser GBRL. Una volta posizionato nella parte sopra alla zona da tagliare ho quindi voluto utilizzare sia i nuovi tasti che ho definito cioè quelli dell'Air Assist sia quelli dell'autofocus per provare il sistema dell'asse Z. Come vedete l'asse Z si muove abbastanza lentamente ma questo secondo me è dovuto a due fattori il primo è quello di preservare lo switch il secondo ovviamente quello di aumentare la precisione nel tocco e quindi di non spostare quello che è il pezzo in lavorazione. Anche qui secondo me i cavi sono leggermente corti. Il primo test di bruciatura effettivamente è venuto abbastanza bene anche se sinceramente non ho capito il perché i numeri si siano spostati nella parte superiore. Come vedete la quantità di fumo prodotta è elevata e quindi c'è bisogno di un locale assolutamente arreato. E questo infatti è stato il mio primo test. Ho tentato di disegnare un cavallo di piccole dimensioni con una potenza abbastanza ridotta per vedere il risultato e già qui le cose cominciano bene. Ho deciso poi per un qualcosa di funzionale e infatti mi sono costruito un semplice supporto per il cellulare. Sono rimasto da subito soddisfatto di quello che è il taglio del laser ma anche della funzionalità perché come potete vedere la funzionalità del laser è rispettata. Quello che potete notare invece ragazzi è una cosa assurda. Guardate questa stella quanto bene è tagliata. Sono 4 mm senza sbavature. Devo dire davvero tanta roba. Non contento ho deciso poi di installarmi Lightburn e qui ragazzi veramente è un altro mondo. Dopo circa un'ora ero già in grado di muovere i primi passi. E ho tentato in colpaccio ovviamente cioè quello di stampare, di incidere diciamo così una fotografia più grande e con la migliore grafica. E questo è quello che ho ottenuto. Sono veramente contento anche qui davvero tanta roba. Mi sono poi tolto la voglia di incidere l'acciaio che preventivamente ho verniciato con la vernice al nitro. Anche qui un grande risultato. Ho tolto la vernice al nitro con il diluente e questo è il risultato. Per ultimo mi sono scaricato da internet il modello 3d di un calibro a cui attorno ho costruito con SOLIDWORKS una semplice scatolina di legno ad incastri. L'ho messa in piano, ne ho ricavato la tavola e quindi poi ho ricavato il DXF che ho mandato in stampa tramite Lightburn. Anche qui tanta roba. Buoni gli incastri anche se non perfetti come quelli che si ottengono dai siti internet ma comunque sufficienti per un corretto assemblaggio della scatola stessa per la quale come vedete ho usato l'acciaio acrilica. Ho costruito questi assi cioè questi tondi con all'interno un foro quadrato per permettere la rotazione del coperchio e devo dire che per essere il primo progetto chiamiamolo così rotante sono davvero contento. Migliorabile è sicuramente la qualità degli incastri ma ovviamente è un qualcosa che non dipende dal laser bensì ovviamente dal progettista. Bene ragazzi siamo arrivati alla fine e quindi conclusioni. Aspetti positivi e aspetti negativi. Secondo me gli aspetti positivi sono tanti. Prima cosa è una macchina ben fatta come avete visto. Le strutture sono in alluminio nodizzato e verniciato spessore 2 mm. Gli incastri sono fatti talmente bene che la macchina resta montata praticamente anche senza viti. Quindi è una macchina pesante certo però quindi è una macchina anche molto stabile. Per quanto riguarda la parte elettrica è molto facile da montare come avete visto da installare perché i cavi sono tutti quanti pronti basta solo fare un click con un connettore maschio femmina quindi è davvero facile. Ed è una macchina completa perché come avete visto ha l'asse Z che si regola con un click davvero comodo e non gli manca niente ha anche l'air assist. Quindi gli aspetti positivi secondo me tanti ma ci sono anche gli aspetti negativi. Secondo me gli aspetti negativi sono due. Primo è sicuramente la rumorosità dell'avvento di raffreddamento della testa. Lo so che non è una macchina da camera o da letto perché come avete visto è una macchina che fa un fumo incredibile quindi una macchina da garage, una macchina da workshop certo da quello che è però passare due ore, tre di fronte a un avvento che fa questo rumore vi assicuro non è poi così piacevole. È un qualcosa che si riscontra anche nell'inverter per esempio del mio tornio. È comunque un qualcosa sicuramente migliorabile. Il secondo aspetto diciamo così non proprio positivo è il prezzo perché il prezzo è un prezzo importante. Certo è un prezzo per una macchina importante però perché a mio avviso li vale tutti. Come avete visto si monta in un attimo, è completa, è veloce, è ben fatta quindi qualitativamente secondo me anche la qualità percepita anche solo guardandola prima di montarla è veramente elevata. Se la macchina vi piace, se volete acquistarla trovate il link in descrizione. Spesso ci sono dei sconti, spesso mi mandano anche dei coupon. Se vi piace il mio video mettete un like. Se non vi siete ancora iscritti al mio canale iscrivetevi al mio canale e se volete rimanere anche aggiornati con quelli che sono le ultime novità premete anche la campanellina. Noi ci vediamo la prossima volta con un nuovo video, una nuova recensione, quello che mi passa per la testa. Tanto un grosso ciao da AB Shop. Ciao. Ciao.